benvenuti su clodiumasci.com questo video è per aggiornarvi sul fatto che ho aggiornato il generatore online di numeri casuali presente sul mio sito quindi se andate sul mio sito servizi generatore online di numeri casuali troverete la nuova versione era una cosa che dovevo fare già da tempo infatti la prima versione è di ottobre 2019 e da allora non l'avevo più aggiornato mentre ho aggiunto poi in seguito il generatore di lettere e il testa e croce avevo promesso di aggiornare anche il generatore di numeri non l'avevo ancora fatto comunque da qualche giorno quindi dal 17 marzo è online la nuova versione completamente riscritta da zero prima era in php adesso in javascript è molto più rapido per quanto riguarda le funzionalità sono rimaste le stesse quindi è possibile inserire un numero da 1 a 100.000 e far generare fino a 100 numeri quindi ad esempio possiamo far generare 10 numeri da 1 a 100 possiamo scegliere se permettere o no numeri duplicati e cliccare su genera numero vediamo che è sicuramente più rapido rispetto a prima per chi già lo conosce sa che prima ricaricava la pagina mentre adesso è in tempo reale quindi la pagina non viene ricaricata viene generato automaticamente c'era un bug che mi è stato segnalato via email che praticamente non inseriva l'ultimo numero quindi se mettevamo da 1 a 100 il massimo che poteva dare era 99 in questo caso vediamo che c'è anche un 100 quindi risolto anche il bug dei numeri quindi diciamo non ci sono nuove funzionalità perché al momento non avevo idee su nuove cose da aggiungere quindi rimane quello che è modificata leggermente la grafica corretto il bug riscritto in javascript per renderlo più veloce se avete dei suggerimenti su cose che si possono aggiungere quindi oltre a permettere numeri duplicati aggiungere altre spunte che si possono attivare e disattivare nel caso in cui ci siano esigenze particolari potete scrivermelo nei commenti e lo aggiornerò stessa cosa vale per gli altri due quindi anche per quello di lettere casuali se avete suggerimenti su come migliorarlo potete scrivermelo nei commenti anche in questo caso ovviamente è in javascript e funziona nello stesso identico modo praticamente adesso ho adattato il generatore di numeri a quello che era il codice degli altri due quindi era l'unico rimasto un po' indietro se state guardando il video da youtube troverete in descrizione sia il link dell'articolo praticamente quello in cui dico quello che avete appena sentito nel video sia il link diretto a questa pagina quindi potrete anche cliccare direttamente sul link e arrivare direttamente al generatore di numeri ovviamente nei servizi comunque lo trovate sia questo che gli altri due per questo video è tutto se il video ti è piaciuto metti like in questo modo mi aiuti a capire quali sono i contenuti che vi interessano maggiormente inoltre se ancora non lo hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella così non perderai tutti i miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine come sempre per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento puoi scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale